oggi voglio parlare nell'obiettivo della sony un obiettivo che già uscito qualche tempo fa 24 50 f 2 8 sony f 24 50 f 2 8 qui lo vedete installato su una sony a7 cr una macchina con 60 milioni di pixel ne abbiamo approfittato avevamo in mano abbiamo fatto anche una recensione lo vedrete sul nostro canale riflessioni fotografiche più che una recensione un consiglio di acquisti perché su questo nuovo canale abbiamo concentrato quello che è veramente il succo la passione fotografica quindi quelle che sono le nostre input che vi vogliamo dare per quello che riguarda l'acquisto di un'attrezzatura con i pro i contro la prova pratica sul campo parliamo dei grandi maestri ci sono tantissimi foto tips in cui andiamo a parlare di un fotografo più o meno famoso descrivendo quelle che sono le caratteristiche delle sue del suo lavoro dell'immagine singolarmente anzi se hai qualche immagine da mandare se la reputiamo che sia valida e che sia istruttiva per tutta la nostra community ok una grande community una specie di grandissimo circolo virtuale ben volentieri commenteremo anche i tuoi scatti quindi ne approfitto già per dirvi per ringraziarvi perché stanno aumentando sempre di più gli iscritti anzi mi raccomando ricordati di spuntare la campanellina e far l'iscrizione questo nuovo canale che sta crescendo tantissimo proprio un canale che respira di fotografia ne approfitto anche per dirvi che nella parte testuale troverete i nostri corsi che potete scaricare e vedere anche offline quindi non c'è bisogno di essere in linea una volta scaricato potete scaricare tutto il materiale guardarvelo con comodo riguardarvelo tante 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 volte perché comunque l'importante è sempre come diciamo noi di riflessioni fotografiche e investire su noi stessi andiamo adesso allora vedere come va questo 2450 sony fe 2450 ve lo faccio rivedere montato sulla sette cr f28 proprio un bel ricco consiglio agli acquisti per farvi capire se per farti capire se questo obiettivo è adatto a te allora iniziamo subito parlando di questo obiettivo a cosa è destinato a cosa può servire iniziamo subito col dire che questo obiettivo questo 2450 f28 estremamente compatto perché pesa 400 430 440 grammi a una ghiera dello zoom fluida lo zoom si estende come avete visto e alla ghiera dei diaframmi la ghiera dei diaframmi che oltre avere dei click ben definiti con la frizione giusta e anche decliccabile quindi adattissime video mecca di fatto in obiettivo adatto sia ai fotografi che ai video mecca perché un obiettivo eclettico hanno switch per l'autofocus e manual focus ha un pulsantino di personalizzazione lo si personalizza dalla macchina una ghiera di emesso a focus sufficientemente fluida a ben 11 lamelli di diaframma e vedete che si accoppia perfettamente un corpo compatto come la 7 cr oppure la 7 c2 e la 7 c è un obiettivo inoltre tropicalizzato quindi si abbina perfettamente con tutte le sony che ormai le ultime sony sono praticamente chi più chi meno tropicalizzate e come vi dicevo prima a due motori autofocus di tipo lineare estremamente silenziali estremamente reattivi che si accoppiano perfettamente anche a quel mosto di velocità della sony a 9 3 sempre sul canale riflessioni fotografiche troverete tre video dedicati a questa macchina particolare un video per quello che riguarda la qualità d'immagine un video perché riguarda l'autofocus è un interessantissima intervista un fotografo professionista che l'ha utilizzata sul campo a confronto con la sua nicon z 9 vi stavo dicendo quindi un obiettivo adattissimo quindi anche al lato video compatibile quindi con la velocità massima della sony 93 e si è trovata a braccetto con la 7 cr è un obiettivo che si comporta benissimo anche a livello di stabilizzazione accoppiato con le mac con le sony ormai sono tutte stabilizzate e che permette quindi l'estrema eclitticità nel senso che un fotografo anche professionista a cui viene richiesto un lavoro foto e video può switchare dal lato foto al lato video con estrema semplicità avendo sempre prestazioni veramente molto elevate accoppiato una sony a7 cr è sufficiente sollevare la macchina attivare il tasto f on e aggancia perfettamente i soggetti e anche lo scatto estremamente rapido quindi è tutto accoppiato che l'obiettivo che ci ha piacevolmente colpiti proprio per la sua velocità si accoppia perfettamente l'obiettivo veloce un po come è la filosofia ultima di sony meccanica ferro molto molto veloce andiamo adesso ad analizzare quelle che sono le prestazioni non starò a dilungarmi troppo perché questo quest'articolo è un vero e proprio consiglio agli acquisti quindi vi parlerò delle sue prestazioni le abbiamo viste un po tutte anche perché in fin dei conti quello che interessa a un eventuale acquirente a te interessa per acquistare questo obiettivo da copiare nato a sony e sapere in effetti all'atto pratico come va iniziamo a valutare quello che è il flare abbiamo cercato ovviamente situazioni estremamente complicate come state vedendo un fortissimo controluce e direi che a livello di flare togliendo il paraluce cercandolo il comportamento non è eccelso di fatti sia 24 che 50 mm abbiamo provato le due focali estreme a tutta apertura si nota che il contrasto si abbassa quindi se fate delle foto in semi controluce state attenti che con certe angolazioni il contrasto si può abbassare tanto è anche vero che in altre situazioni sempre uno scatto in fortissimo controluce stando un po attenti il contrasto rimane sempre molto elevato e a f 22 si hanno riflessi interni ghost immagini fantasma e comunque un contrasto sempre molto basso quindi direi che livello di flare non è il massimo c'è di peggio però c'è anche di meglio abbiamo fatto anche qualche scatto all'interno della chiesa di san giovanni di parma classica foto turistica perché questo obiettivo è adattissimo anche per il turismo per la foto turistica per la foto di viaggio perché estremamente compatto e chiudendo il diaframma si ha bellissimo effetto stella vi ricordo che il diaframma è a 11 lamelle e vi ricordo anche che questo schema ottico poi andremo a vedere l'influenza che ne ha a livello di aberrazioni è composto da quattro lenti asferiche per combattere l'aberrazione sferica e due lenti a bassa dispersione per cercare di combattere quelle che sono le aberrazioni cromatiche comunque ne parleremo fra un po a livello di distorsione abbiamo fatto dei test a 24 50 mm con e senza correzione quindi abilitando meno la correzione software in macchina 24 mm se abilitate la correzione la distorsione ovviamente perfettamente corretta se invece la disabilitate perché vogliamo vedere in effetti l'obiettivo in sé nudo e crudo come va sapete che siamo un po noiosetti a 24 mm distorsione barilotto è molto evidente 50 invece comportamento perfetto quindi se fate foto architettonica dove avete per dire delle linee che devono essere perfettamente dritte senza avere delle strane distorsioni mi raccomando abilitate sempre la correzione in macchina oppure in fase di post produzione altro fattore che può influire sul look finale dell'immagine che può piacere o meno è la vignettatura a 24 mm quindi alla focale massima sia circa un paio di stop a tutta apertura dal centro a bordi a chiudendo di uno stop sia circa mezzo diaframma due terzi di diaframma credendo ancora di più la vignettatura sparisce a 50 mm a tutta apertura si guadagna circa mezzo stop di uno stop e mezzo di vignettatura man mano che si chiude il diaframma vignettatura sparisce quindi un comportamento direi sufficiente sufficiente discreto c'è anche da dire che la vignettatura in certi frangenti non da non dà del tutto fastidio anche questo questo questa aberrazione questo difetto si può correggere andiamo a toccare adesso un argomento che non è un argomento fondamentale per quello che pensiamo noi nel senso che la nitidezza a volte può essere anche troppo elevata specialmente per quello che riguarda il lato video se fate riprese video utilizzate sempre dei parametri non troppo aggressivi quindi abbassate la nitidezza fate sempre in tempo in fase di post produzione col vostro software di post produzione che può essere da vinci può essere fino al cat a innalzare la nitidezza ma cercate sempre di stare piuttosto scarsi perché se no l'immagine specialmente con lui che vanno ultimamente no perché vanno per la maggiore tutte le case costruttrici tendono a spingere molto sui parametri quindi spingere un po su quello che è la curva di contrasto spingere un po quello che sulla nitidezza sulle varie correzioni e l'immagine diventa spesso un po finta un po plasticosa no quindi andateci piano abbassate la riduzione del rumore mettetela più basso che potete abbassate la nitidezza e avrete delle immagini con un look sicuramente piacevole questo è un consiglio che vi diamo noi di riflessioni fotografiche allora parlando di nitidezza la nitidezza è la minima distanza ho fatto uno più scatti vi faccio vedere questo e il comportamento è buono già a tutta apertura e questo ci fa capire quello che lo schema ottico sofisticato di questo obiettivo a media distanza a 24 mm al centro quindi la focale massima è già molto buona tutta apertura spinge veramente tante ottimo da f4 quindi che non stop sino a f8 a f11 c'è un po di diffrazione i bordi sono leggermente più bassi a tutta apertura ma veramente allo stesso livello da f4 a f8 e anche f11 si vede un po di diffrazione a 50 mm il comportamento è praticamente molto simile nel senso che sempre al centro è molto buono a tutta apertura anche i bordi direi che sono molto buoni un ottimo comportamento da f4 a f8 a f11 un po di diffrazione quindi a media distanza per avere il massimo della resa centro bordi ma veramente molto alto f4 f8 ma anche tutta apertura se la cava veramente bene in ambito foto e la stessa cosa in ambito video parlando di infinito un obiettivo adattissimo anche la foto paesaggistica non solo la foto urbana la foto ricordo alla foto ai familiari al video ma è anche adattissimo al paesaggio in apertura 2 8 può essere utile in tantissime situazioni è chiaro però che quando fate fotografie di paesaggio è meglio chiudere di un paio di stop 5 6 8 ok per avere una nitidezza su tutto il campo ma devo dire che sia 24 che a 50 mm a tutta apertura al centro l'obiettivo si comporta già molto bene e si comporta molto bene sia nel diaframma 11 l'unica differenza che al centro deve dare diffrazione dovete chiudere a 16 ai bordi a 11 si comincia già intravedere sia 24 come state vedendo sia a 50 mm direi che per tutta l'escursione focale da 24 a 50 mm la resa ottima sia da f4 a f11 con i bordi leggermente in diffrazione f11 ma niente di che quindi l'obiettivo che vediamo molto molto adatta anche la fotografia di paesaggio quindi con la correzione abilitate per quello che riguarda la distorsione con l'intidezza non troppo alta per ve l'ho già spiegato per non ancora ricerche immagini un po finte un po artefatte un po plasticose a tutte le distanze di lavoro l'intidezza non sarà assolutamente il problema anzi andiamo adesso a toccare un tasto molto complicato sia da interpretare sia da far recepire ma le aberrazioni sono dei difetti ottici che vanno influire tanto su quella che l'ha resa fine nell'obiettivo prima di tutto lo sfocato comunque cominciamo pian piano a farvi vedere quelle che sono le aberrazioni i difetti principali parlando di aberrazione cromatica laterale si nota elevatissimi grandimenti l'ho notata spesso magari se avete dei rami contro luce dove ci sono forti contrasti i bordi possono sfrangiarsi in diversi colori ma l'ho notata soltanto elevatissimi ingrandimenti l'aberrazione cromatica assiale che è la compagna di quella laterale quindi è una aberrazione cromatica che si nota lungo l'asse di messa a fuoco l'abbiamo notata anche questo ingrandendo tanto si nota un po di aberrazione cromatica assiale ma niente di che anche qui un comportamento molto buona testimonianza che le lenti a bassa dispersione queste due lenti a bassa dispersione il suo lavoro lo fanno devo dire che abbiamo anche controllati file nude crudi con rodinger il comportamento è molto simile quindi già come hardware già a nudo l'obiettivo ha un buon comportamento quindi la macchina deve far meno fatica il vostro software andare a correggere queste aberrazioni parlando sempre liberazioni particolari c'è anche il coma il coma si può notare quando fate per dire un 24 mm potete fare dei bei cieli stellati e il coma che una volta era un problema enorme per i fotografi e gli astrofotografi praticamente vi fa una sorta di coda di cometa ai vostre alle vostre stelle ai vostri punti luce oltre questo difetto può anche dare delle sfrangiature allora si parla di flair di coma come state vedendo nelle punti più luminosi una specie di diciamo di sfrangiatura appunto sui punti luce più luminosi si nota appena solo forte ingrandimenti quindi anche a livello di coma non abbiamo fatto foto notturne ma siamo convinti che il comportamento deve essere buono quindi va bene anche per fare foto notturne parliamo poi di aberrazione sferica è un aberrazione che va a influire parecchio su quello che è la nitidezza dell'obiettivo ma ancor di più su quello che l'ho sfocato l'aberrazione sferica si nota tanto si riesce a leggere tanto a capire tanto guardando i punti luce i punti luce presenti nella scena nel senso che in questo caso il punto luce è regolare come forma abbastanza regolare in effetti perché il punto luce era ai bordi dell'inquadratura e assume un po la forma agli occhi di gatto gli undici lemelli di diaframma comunque aiutano per rendere i bordi estremamente regolari e si notano però i bordi che sono leggermente più luminosi rispetto a tutta la sferetta quindi vuol dire che l'aberrazione sferica e leggermente sovracorretta non si notano neanche i difetti di lavorazione quindi probabilmente le lenti asferiche sono fatte con la tecnologia non tanto a molatura ma a stampo o qualcosa del genere anche perché i costi sono inferiori ma il loro lavoro il loro sporco lavoro queste quattro lenti asferiche lo fanno vi dicevo che questa sovracorrezione si nota poi nello sfocato compreso gli undici lemelli di diaframma compreso la correzione delle aberrazioni cromatiche eccetera eccetera andando a vedere lo sfocato lo sfocato si nota che leggermente strutturato quindi questa sovracorrezione porta un po di durezza nello sfocato non è estremamente pittorico però è buono è buono ed ha una buona anche progressione nel senso che i piani man mano che si va dal fuoco fuori fuoco non sono troppo netti quindi sony sta lavorando anche sotto questo aspetto quindi questo 2450 f2 8 della sony ti potrà anche essere utile per un ritratto ambientato magari a tutta apertura chiaramente stando attento a non mettere il soggetto al centro su 724 e a 50 mm senza fare il faccione perché comunque anche in 50 deforma un po però ti può dare un bello stacco dei piani abbastanza pittorico e non troppo ruvido andando un po a chiudere questo questo consiglio di acquisti questo sony 2450 lo vediamo molto adatto per tantissime tipologie di utilizzo una delle prime che ci viene in mente è la fotografia turistica la fotografia di famiglia quindi voi date in giro con il vostro obiettivo vedete qualche scatto che ho fatto all'interno della chiesa di san giovanni utilizzato con un buon treppiede ma fidandosi anche della stabilizzazione abbiamo fatto il test con la sony a7 cr e sino un secondo vanno libera si riesce a lavorare però col cavalletto ti permette non in tutti i posti lo posso potete fare lo sapete in italia purtroppo ci sono delle leggi che ci stanno noi strozzando come fotografi comunque con un buon cavalletto con un diaframma giusto 5 6 8 e a iso piuttosto bassi l'obiettivo spinge veramente tanto e vi darà grandi soddisfazioni facendo foto in termini chiedersi apprezzerà la colorimetria delle ultime sony la nitidezza di questo obiettivo e la trasportabilità perché un obiettivo che ha della sua una grande trasportabilità estremamente compatto con focali veramente interessanti che vanno dal 24 che un bel grand'angolo al 50 mm con classico obiettivo adatto alla street come il 30 come a 35 mm a 35 mm non vi abbiamo fatto vedere i test ma le prestazioni sono molto simili alla focale 50 mm quindi la distorsione non è per niente invasiva nitidezza buona da 48 sino anche 11 obiettivo quindi eclettico adattissimo anche al video perché la focale 24 50 sarebbe stato bello 20 mm no ci sono certi obiettivi che partono da 20 arrivano a 50 60 perché col video non sia mai abbastanza angolo di campo comunque un obiettivo che va benissimo proprio per come ho fatto vedere per le sue prestazioni a livello di autofocus a livello di stabilizzazione accoppiata la macchina di velocità di silenziosità di motore autofocus concludendo ve lo consigliamo o no allora rapporto prezzo prestazioni costa circa sui 1300 euro magari non metteranno in kit chi lo sa con qualche corpo sony e l'obiettivo da prendere in considerazione specialmente per la foto di viaggio quindi la foto che deve raccontare è un obiettivo da un'ampia apertura compatto leggero che ti potrà veramente essere molto utile che si accoppia perfettamente alle sogni più moderne con tutti i parametri autofocus velocità stabilizzazione focus breaking anche questo è un fattore importante per chi mette a fuoco manualmente sapete che il focus breaking può variare il campo in quadrato questo obiettivo con le macchine sony che sono dotate di questa correzione attenua tanto anche questo problema detto questo spero di averti dato le informazioni corrette per valutare l'acquisto meno di questo obiettivo noi di riflessioni sicuramente te lo consigliamo se ti è piaciuto questa questa chiacchierata questo consiglio mi raccomando iscriviti al canale spunta la campanellina con tutte le varie opzioni così si è avvisato di tutti i nostri nuovi articoli di questa grande community che sta crescendo intorno a noi e con noi mi raccomando se hai delle domande se hai delle osservazioni scrivile perché poi da ogni consiglio da ogni articolo che noi facciamo ricaviamo dalle vostre risposte dai vostri commenti altri articoli successivi per andare ampliare il colloquio le chiacchiere fra noi per questa grande community di chi ama la fotografia quindi ti ricordo ancora iscriviti e dare un'occhiata ai corsi che puoi scaricare ai tanti corsi che abbiamo disponibili ci vediamo alla prossima chiacchiera e adesso devo fare qualche foto ciao